But I couldn't resist, I couldn't resist that dream of me and you Ciao, siamo Luca e Jessica e abbiamo delle novità della Pianaro Factory. Volevamo ricordarvi che l'8 marzo ricorrerà il centesimo anniversario del rogo all'industria Cotton. Due anni dopo, nel 1910, per commemorare l'incidente in cui morirono molte lavoratrici, una sessione dell'internazionale socialista, riunita a Copenhagen, decisa di istituire la giornata internazionale della donna. Quest'anno, per celebrare appieno l'anniversario, le donne di Pianaro hanno deciso di unirsi per farsi la festa, dando vita al Lavori in Corso Festa della Donna. Da martedì 4 abbiamo l'esposizione di foto, abiti, gioielli, tutto prodotto dalle ragazze. Venite a vedere. L'8 marzo, a partire dal 19.30, aperitivo con DJ Set a cura delle donne move, da Munghidora con furore. Vi proporranno una selezione dei migliori sketch delle comiche italiane. Angolo di Libia aperto. Potrete portare un libro scritto da donne e sulle donne per condividerlo. E proiezioni, immagini storiche dall'archivio sindacale CGL Bologna, in collaborazione con l'associazione Paolo Pedrelli. Grazie Betti. Ah, dimenticavo, grazie a Ambarca, che quella sera vi avvicinerà alla cultura marocchina disegnando i vostri corpi con le neppe. Vieni anche tu a farti il tattoo. Per finire, musica e immagini dalle donne move che chiuderanno la serata con una selezione di musica anni 80 e 90. Ciao. 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 Ciao.